Un inseguimento improvviso lungo Viale San Bruno, il rettifilo che dalle terme di Caronte raggiunge la costa tirrenica. Quando una pattuglia dei carabinieri della compagnia di La Mezzaterme, diretta dal capitano Pietro Tribuzio, ha tentato di raggiungere una vettura che sfrecciava sulla statale, il conducente della vecchia Golf Volkswagen ha tentato di far perdere le proprie tracce introducendosi all'interno di un terreno agricolo. Abbandonato il veicolo, l'uomo ha tentato quindi la fuga a piedi per le campagne dopo essersi disfatto di un vistoso involucro. I militari sono riusciti a bloccarlo poco dopo ed hanno immediatamente recuperato il pacco sospetto che si è scoperto con tenere ascisce per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Si tratta di un 51enne marocchino tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ma anche per detenzione di armi da sparo clandestine e ricettazione. In uno dei capannoni attigui, risultato nelle sue disponibilità, i militari hanno effettuato una curata perquisizione con l'ausilio del nucleo cinofili di Vibo Valencia. Sono stati rinvenuti due fucili calibro 12, un Franchi ed un Beretta, entrambi con matricola brasa, ed un giubbotto antiproiettere di produzione americana, completo di piastra metallica, con medesime caratteristiche di tenuta balistica, di quelli in uso alle forze di polizia. Le armi in ottimo stato e perfettamente funzionanti ed il giubbotto erano accuratamente avvolti in un doppio strato di cellofan e buste di plastica, abilmente occultati nell'intercapedine del muro perimetrale del capannone. Il soggetto è stato tradotto nella casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell'autorità giudiziaria.